Ben trovati al consueto appuntamento settimanale con il meteo e con le previsioni a cura del meteorologo Giuseppe Stabile di Meteosette.it. Giuseppe, prima di conoscere il tempo previsto per questo fine settimana, com'è la situazione attuale del tempo? La nostra regione è interessata da un flusso di correnti umide occidentali che determina la formazione di nubi stratiformi per lo più innocue. L'alta pressione delle azzorre continua a rimanere defilate in pieno oceano, anche se nelle prossime ore estenderà temporaneamente la sua influenza anche alla nostra regione. Intanto, dalle isole britanniche, è in arrivo un vortice di bassa pressione spinto da correnti relativamente fredde. depressione che raggiungerà la nostra regione nella notte tra sabato e domenica, dando inizio ad una fase di tempo molto instabile. E per le giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio, come sarà il tempo? Per domani, sabato 11 maggio, avremo cielo inizialmente poco nuvoloso ovunque, con tendenza ad aumento della nuvolossità nel corso del pomeriggio sera, ad iniziare dai settori occidentali della regione. Nel corso della notte sensibile peggioramento, con precipitazioni a carattere di rovescio, in estensione dal casertano alle rimanenti aree. Temperature in temporaneo lieve aumento, venti deboli occidentali, con tendenza a rinforzare dalla serata, disponendosi da libiccio. Mare da poco mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata. Per domenica 12, condizioni di cielo molto nuvoloso ovunque, con precipitazioni diffuse, specie nella prima parte della giornata. Possibilità di temporali anche grandinigeni, temperature insensibile diminuzione, venti moderati occidentali e mare molto mosso o agitato. E sulla tendenza della prossima settimana, come si svilupperà la situazione? Nei primi giorni della prossima settimana, su tutto il Mediterraneo rimarrà attiva una circolazione depressionaria che manterrà condizioni di tempo molto instabile su buona parte della nostra regione, in modo particolare nelle aree montuose. Dunque, altre precipitazioni in arrivo in un contesto termico abbondantemente al di sotto della media del periodo. Tra lunedì e martedì ci sarà occasione anche per spruzzate di neve in Appennino, al di sopra dei 1500-1600 metri, una situazione destinata a durare almeno fino a giovedì 16 maggio. Per maggiori dettagli comunque invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it Grazie mille stavolto! Grazie a tutti.